Sono una paziente del dottor Mazzi, una persona molto professionale e gentilissima. Sono arrivata qui nel suo studio e lui mi ha saputo consigliare su una mia problematica che erano degli accumuli di grasso localizzati e sul modellamento del corpo. Allora ho deciso con lui di fare Belkira e Velashep con dei risultati veramente eccellenti. Ve lo consiglio a un professionista.